Io ci tenevo a dire una cosa che secondo me è molto importante, aveva accennato qualcosa Paolo prima, secondo me è molto importante che definiamo delle linee guida su come seguire proprio dal punto di vista pratico i pazienti, perché lavorando con le persone mi sto rendendo conto che vederle per una prima visita e poi rivederle magari a distanza di un mese significa perderle per strada, perché le persone spesso si trovano con degli effetti collaterali abbastanza importanti o comunque molto fastidiosi, quindi secondo me è necessario che definiamo un protocollo anche su come seguire le persone da vicino, quindi potremmo stabilire o comunque consiglio a chi utilizza il protocollo SERPLUS di vedere le persone magari anche dopo una settimana, sentirle telefonicamente, utilizzare Skype, anche se tutti non hanno la possibilità di utilizzarlo, comunque avere la possibilità di avere un contatto diretto e stretto con le persone almeno nel primo periodo, perché il controllo a distanza di un mese può essere deleterio, nel senso che mi sono accorta che il rischio è proprio quello di perdere per strada un sacco di persone. Voi cosa fate? Come vi muovete? È impensabile, l'arco di tempo di un mese è davvero impensabile, specialmente per le situazioni più gravi, addirittura ci sono più contatti giornalieri, perché c'è la persona che passa dalla DR alla stitichezza, allo stato febbrile, a delle coliche molto potenti, quindi necessita davvero di essere supportato non solo a livello di consiglio per quanto riguarda l'alimentazione e il dosaggio del Serplus, ma anche a livello psicologico c'è bisogno davvero di un supporto molto forte, anche perché la mentalità classica che ci è stata insegnata è quella della pastiglia, l'antidolorifico, pastiglia e mal di testa, prendi la pastiglia e mal di testa passa, tornerà mal di testa, riprenderemo la pastiglia, nessun problema. In questo caso invece dobbiamo accettare situazioni di aggravamento, di peggioramento e riuscire a vederle come un'effettiva attività riparativa e non come un peggioramento, un percorso necessario, quindi la persona davvero deve essere supportata, deve sapere che tu ci sei e che deve essere rasserenata nel dire sì, ok, questo è un percorso obbligato, questa è una situazione che può succedere, la dobbiamo gestire, dobbiamo secondare, la persona ha bisogno di sentirsi dire questo per star tranquillo, perché con la mentalità che abbiamo adesso ovviamente vede il peggioramento e non un percorso obbligato. Però dall'altra parte poi quando si hanno tanti pazienti diventa molto difficile gestire 100 messaggi al giorno, 20.000. Il problema grosso è proprio questo, che non c'è più né giorno né notte, perché nel mio caso specifico... No, mi sto rendendo conto che ci sono persone che magari necessitano di un supporto anche psicologico maggiore, che quindi insomma mandano veramente... Vanno proprio accompagnate davvero per mano. Che cosa fare? Possiamo darci secondo voi una regola della serie? Non so, ad esempio, io avrei parlato di questo argomento anche con Shanti, perché so che lui sente settimanalmente le persone via mail o via Skype, adesso non so di preciso, e potremmo anche noi definire così, delle linee guida molto generali della serie, non so, ci sentiamo via mail. Io posso dire, dato a te di Shanti, come è stato l'inizio della cura? Io ho avuto tre incontri tramite Google & Guts e quello che fa lui con i pazienti è che praticamente fa compilare settimanalmente un file di Excel semplicissimo, suddiviso giornalmente con tutto ciò che si mangia in maniera molto precisa che poi il paziente deve compilare, quindi è un lavoro, fa lavorare anche il paziente, il peso, le ore di attività fisica, perché lui comunque consiglia anche di abbinare sempre a una importante attività fisica e tutti appunto i sintomi, non so, c'è una sezione dedicata, non so, alla lingua, le feci da segnalare con il Bristol Test, quindi da uno a sei e poi anche magari uno ci può aggiungere delle note, quindi per i primi due mesi e mezzo, tre, io tutti i giorni mi sono compilata le mie tabelle che settimanalmente gli inviavo, quindi questo già può essere secondo me un aiuto per i medici. Secondo me il dottore poi non è che guarda precisamente, esattamente, guarderà le cose principali, penso i sintomi e più o meno a grandi linee l'alimentazione se va bene. Sì, il diario alimentare magari diventa difficile tenerlo sotto controllo quotidianamente, anche perché insomma, se il protocollo è quello, teoricamente... Volevo dire, io faccio una cosa simile, nel senso che chiedo un diario alimentare settimanale, ma per me è più importante il sintomo, cioè cosa peggiora e cosa migliora. Più che, ok, ho usato un po' di olio d'oliva, ho inserito, insomma, più che i dettagli alimentari, è importante sapere, insomma, poi quando lo scrivono nero su bianco è un impegno anche per loro, nel senso che a volte, insomma, si seguono i pensieri che vengono in testa, ma mettendoli nero su bianco è un impegno nel dire come stanno le cose. E poi ho un contatto settimanale via email o anche via WhatsApp e consulti mensili via Skype, però mi rendo conto che per alcune persone non è abbastanza, magari ogni due settimane via Skype, insomma, ma è solo una congettura, ecco. Ad esempio io ho iniziato ad allegare a quello che è il protocollo alimentare che do ai miei pazienti una tabella che ho definito tabella del benessere, dove giorno per giorno, e ci sono già tutti i giorni con le caselle, proprio una tabella, e giorno per giorno il paziente deve segnalare dei sintomi, quindi non so, ad esempio le feci, la consistenza delle feci, piuttosto che gonfiore addominale, cefalea, e ho segnalato tutta una serie di sintomi, e ho lasciato comunque una casella libera per eventuali cose che non ho previsto, e giornalmente il paziente mi deve scrivere quello che sente, quello che prova, in modo che poi, quando ci si rivede a controllo, io possa verificare come sta andando il percorso. Giornalmente proprio? Sì, giornalmente lo devono fare una crocetta, quindi non è un impegno esagerato. Sì, questo soprattutto all'inizio, poi insomma dopo che le... Ma il report tutti i giorni? No, 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 assolutamente. Cioè dai da compilare? Lo do da compilare quando li rivedo, a distanza di una quindicina di giorni di solito, controllo quello che è... Nessuno ti contatta mai? No, beh, mi contattano, eh. No, no, ci sono persone che mi mandano anche diversi messaggi al giorno, anche di sabato, di domenica, di notte, quindi credo... Sto preoccupando che succedesse il contrario, quindi... Magari, no, no. Potrei gestire tutto in stesso modo, se ne parlo che... Certo, certo. No, però io mi pongo il problema perché dico, se tutti i pazienti che seguo iniziano a mandarmi messaggi, mail, tutti i giorni, con la frequenza con cui lo stanno facendo alcuni, non riesco più a gestire le mie giornate lavorative, diventa veramente impossibile. E allora dicevo, forse vale la pena provare a dare... a darsi una regola e... Vorrei dire un'altra cosa. Esatto, esatto. La dottoressa Campbell, sempre, insomma, per tornare nell'argomento GAPS, lei consiglia che ogni terapista organizza dei gruppi locali con i pazienti, ok, in cui si incontrano e si parla di un argomento nuovo a ogni giornata, come stanno i pazienti, è un modo un po' per prendersi responsabilità, conoscersi tra di loro, supportarsi tra di loro, che magari il gruppo Facebook da solo non è sufficiente, ecco, in questo. Quindi, dato che molti di noi sono di Modena, non so... Qua quante persone sono disposte anche magari a far conoscere clienti di altre persone, così può essere anche un discorso, non so, di privacy, però potrebbe essere utile nel creare un senso di comunità, ecco, che forse... Sì, secondo me potremmo tenere presente anche questa modalità, sicuramente. Voglio vedere anche come uno mi chiede, perché personalmente io in primi di protocollo e di terapia, cioè facevo fatica ad alzarmi dal divano, quindi è un po' difficile anche solo l'idea di recarmi in qualsiasi luogo, anche semplicemente lavorare, quindi sì, sicuramente è una bella idea, perché io vedo che nel gruppo di Facebook, comunque soprattutto all'inizio, quando avevo difficoltà, quando non capivo tante cose, ho trovato un grande conforto, se non altro. È una bella idea, però poi mi dobbiamo vedere appunto se tutti stanno male come sono stata male, io la vedo, insomma, piuttosto difficoltosa la cosa. Ma invece io la strategia che proverò ad adottare da... Ah, scusa, ce l'hai già? No, non ho anche un altro. La strategia che proverò ad adottare è un tentativo, eh. Da ottobre, visto che non ho più sabati, domeniche, sere libere, sto trascurandomi, io vengo fuori da due malattie autoimmuni e non vorrei ricadere nello stress e recuperarle per guarire gli altri, esatto. Quindi ho pensato di comprare un nuovo numero di telefono. Ma, però per loro. Sì, no, dedicare un'ora al giorno, tanto comunque sia io, tra virgolette, perdo tra virgolette, tre, quattro ore al giorno a rispondere a. Quindi io dedicherò un'ora al giorno, proverò a fare questo tentativo, se volete mi chiamate, mi contattate, mi scrivete in quest'ora e io risponderò solo in quest'ora della giornata. Non lo so, è un tentativo, voglio provare, ma questo mi permetterà di recuperare. Però c'è di fatto che, c'è di fatto che comunque sia prima e dopo quell'ora troveranno il telefono spento, perché, cioè, alla fine non è per cattiveria, ma è per sopravvivenza. Quindi io proverò a fare questo tentativo e vediamo come va. Magari sbaglio, magari ho ragione, ci provo. È proprio... Ecco, brava. Anche il medico di base c'è in determinati orari. Esatto. Io parlo da farmacista, quindi non sono terapeuta e non posso fare la terapeuta, però se si riuscisse ad allargare il vostro gruppo, quindi avere più persone, è chiaro che poi anche il vostro impegno si ridurrebbe a un impegno, diciamo, più gestibile. Perché i pazienti sono tanti e dividerli su tanti terapeuti è una cosa, dividerli su pochi è una cosa molto più impegnativa. Quindi non lo so come si può riuscire a coinvolgere più terapeuti in questo discorso. non lo so come si può far girare la voce e far arrivare questo messaggio ad altre persone che possono essere dico terapeuti ad intraprendere un discorso del genere. Ecco, anche questo sarebbe una cosa utile per voi perché così ognuno si crea il suo gruppo di pazienti gestibile però, in un numero gestibile perché non è che potete perdere la salute voi per curare... La condivisione di gruppo secondo me è sempre un momento di crescita importante tra le persone. Ogni cosa è bella e realizzabile in funzione del contesto. Se hai tutte persone che sono prese a fare le mamme a lavorare e non hanno un attimo libero che diventa già difficile riuscire ad avere un approccio di controllo se chiedi addirittura un'altra tempistica e un'altra situazione dove ci si deve trovare e magari anche per la visione di qualcuno perdere del tempo perché spesso viene si pensa in questo modo perdo tempo e non invece pensare al fatto che lo stai comunque dedicando a te non solo a te ma anche agli altri. c'è una situazione di crescita comune quindi un aiuto condiviso se c'è la situazione se ci sono sufficienti persone che aderiscono è sicuramente una bella idea però vedo personalmente vedo tutto bello quello che è attuabile quindi se lui riesce o tu o io a creare una cerchia sufficiente per far quello ok posso fare sicuramente mi piace tantissimo anche l'idea della Sara però magari ho anche ho anche situazioni di persone che non hanno internet non hanno skype hanno hanno una repulsione persino con la biro hanno 70 80 anni è ovvio è ovvio dopo ho persone invece che mi contattano con qualsiasi tipo di ausilio elettronico e innovativo quindi sicuramente ecco tutto tutto è buono forse sta sempre il problema sta sempre grande da parte nostra di dover davvero diventare dei sarti in grado di poter vestire ogni fisico ogni corpo con tutti i difetti quindi non possiamo standardizzare ad una muta di palombaro che è grossa sufficiente per contenere tutte le fisicità cavolo ma dobbiamo fare i sarti che costruiscono dallo stesso pezzo di stoffa il vestito per ogni corpo e quindi non è non è facile non è facile perché ognuno ha la sua modalità purtroppo per fortuna quindi quindi è tutto è tutto bello quello che è attuabile magari per me è attuabile una cosa per me un'altra quindi non è detto che quello che riesce fattibile a me possa essere fattibile anche anche un altro quindi secondo me le idee sono tutte belle tutte tutte da sviluppare e ognuno dobbiamo vedere di riuscire a mettere insieme sicuramente una linea una linea guida generica da tenere in considerazione per come lavorare anche per una specie di uniformità di approccio è sicuramente una cosa valida è indicata perché non c'è una formazione non c'è una scuola non c'è una linea guida quindi ognuno si può diciamo tra virgolette spacciare come terapeuta e ognuno può lavorare come ne ha voglia in funzione delle proprie idee esperienze e professionalità quindi forse magari può essere davvero una buona cosa riuscire a dare non dico una linea guida però dire vabbè se vuoi fare professionista comunque devi avere queste conoscenze devi avere questo modo di lavorare e poi comunque sicuramente esserci un confronto tra di noi per poter sto facendo così specialmente nei casi particolari e quindi magari anche avere un po' di consenso tra di noi per dire sì ok mi sembra giusto no non mi sembra giusto comunicazione di servizio Paolo aveva portato qualche testo sulla dieta GAPS se siete interessati chiedete a lui ad acquistarlo no io con la SIBO anche io ho dei grossissimi problemi nel senso che è molto difficile da risolvere io sto mettendo insieme la dieta FODMAPS a quella dei carboidrati specifici prendo alcune cose dalla dieta GAPS e bisogna eliminare incompresse spesso solitamente incompresse perché senza l'ulina è sicuramente più tollerato ovviamente riduco il più possibile quelle che sono le fibre ma soprattutto gli amidi purtroppo per la paziente a parte che terapista bisogna anche far capire l'importanza della rigidità invece di nel senso che è veramente importante seguire alla lettera quello che viene detto perché se no si rischia di trarre la patologia veramente all'infinito quindi il protocollo si sarà brutto regime però deve per certi versi trasmette anche l'idea diciamo così che non è semplicemente una possibilità una dieta dimagrante è differente insomma non è una scelta ma ahimè è una realtà a cui bisogna tenersi quindi talvolta è difficile far passare questa cosa al paziente in tutti i campi insomma al di là del protocollo SER-BLUS però percorso all'attività senza andare a dare dei canoni prestabiliti oppure dare un input mentale che possa riferire a cose statiche non è facile solvoliamo sull'argomento intanto beh insomma io spero che il gruppo facebook dei professionisti continui ad avere esatto magari le lanciamo e vi chiedo anche di condividere magari casi positivi e non sul gruppo così magari al prossimo per il prossimo incontro se realmente lo facciamo fra sei mesi comunque sia l'idea di avere un report settimanale secondo me è utile perché un domani può diventare anche archivio nel senso tutti utilizziamo una linea comune raccogliamo i dati in modo comune esatto lo facciamo esatto esatto lì diventa proprio una case history per ogni tipo di problematica capito vediamo come hanno reagito i pazienti col morbo di Crohn se hanno reagito tutti in modo uguale quindi secondo me una via da perseguire potrebbe essere ecco anche sul Crohn il protocollo va modificato completamente ovviamente perché insomma non possiamo dare frutta a verdura cron retocolite ulcerosa in questi casi ovviamente il protocollo così come è scritto sul sito va modificato certo al mondo ma anche perché voglio dire io con la Sivo Shanti comunque la prima cosa che mi ha fatto fare è fare semi digiuno cioè mi ha resettato completamente perché ovviamente ti assicuro che io mangiavo tanto ma ho fatto una grandissima fatica però voglio dire al di là della cioè non ci deve essere una dieta ci deve essere una privazione purtroppo prima di cominciare un percorso ben fatto perché questa è la realtà anche lì vorrei dire un'altra cosa che in base insomma alla poca esperienza che ho avuto però la prima sessione dura tantissimo a volte anche due ore e se pensiamo a quello che rimane in testa una persona magari rimarrà in testa 20 minuti il 20% di tutto quello che abbiamo detto e dopo ci forse anche meno dopo ci ricontattano perché si sono dimenticati le cose che abbiamo detto magari nel piano non abbiamo scritto tutto per cui forse come proponeva Sara all'inizio è utile dire solo le cose essenziali nella prima sessione e averne altre ravvicinate in modo di non sovraccaricarli così tanto perché per me è molto importante anche la parte educazionale perché li motiva e li aiuta a sostenersi da solo se noi invece non abbiamo tempo per quella e parliamo solo di quello che dovrebbero fare non gli diamo quel senso di motivazione che è importante ecco quindi forse tre sessioni ravvicinate a cadenza settimanali non lo so è un esempio di mezz'ora o di un'ora invece che una di due ore e mezza in cui tutti e due siamo morti alla fine può essere meglio ecco il problema è che non è mai un problema sono sempre tanti problemi e ognuno dei tanti problemi alla fine per riuscire a motivare devi spiegare far capire alla persona vuol dire che praticamente per ogni argomento per ogni situazione ci devi fare una lezione pratica perché presumo capiterà anche a voi diventa quasi una registrazione perché continui a ripetere le stesse cose per ogni pratica per ogni problematica continui a ripetere le stesse cose poi ti arriva la persona successiva di cazzo se fosse stata qua prima avrebbe ascoltato anche lei e devi ripetere di nuovo tutto e poi quando ti ritornano ovviamente non hanno capito niente non si ricordano devi di nuovo ripetere ancora tutto poi hanno il problema glielo devi spiegare di sì hai avuto questa risposta perché e ricominci di nuovo un'altra valanga di ripetizione di concetti purtroppo se vai dal farmacista o dal medico che ti dà un farmaco non fai altro che prendere il tuo farmaco accetti il dosaggio accetti tutto sai che è così e anche se non fa niente o ha effetti collaterali ti sta bene con noi l'approccio non è questo noi purtroppo dobbiamo continuare a seguire la persona e ci porta via tantissimo tantissimo tempo vediamo tutti che già una visita che la fai da uno specialista che ti chiede 500-800 euro ci stai dentro 10 minuti noi magari chiediamo 50 e ci sta dentro due ore poi comunque devi continuare a seguirli talunni addirittura giornalmente anche più di una volta al giorno perché è un momento la disenteria è un momento sta male dopo gli si è spostato appena appena adesso il dolore all'intestino lo sento 5 centimetri più alto ok cosa devo fare però potrebbe essere giusto il suo concetto la prima volta lo ascolti e la volta dopo forse è meglio spiegare il protocollo perché lui è già dopo un'ora quanto recepisce dopo mezz'ora secondo me non memorizza più niente io non sempre non sempre anzi raramente ha il tuo protocollo perché più che pensare al protocollo devo innanzitutto capire la persona come riesce ad approcciarsi a volte ho bisogno di un approccio soft quindi devo adattarmi anche io alla capacità della persona di riuscire ad accettare quello che io le sto dicendo quello che io sto facendo fare se io voglio che la persona faccia quello che dico io posso perderla e quindi posso non riesco ad aiutarla se voglio riuscire ad aiutarla veramente sono io che mi devo adattare alla persona ho capito questo che vuoi dire però è verissimo quello che dice lui dopo 20 minuti uno non memorizza più te lo fanno anche i corsi tantissimi corsi ti dicono che uno dopo un tot tempo non memorizza più dunque che senso ha per tre ore quando continua a farti domande vuol dire vuol dire che comunque questo che ti voglio continuo a chiamare perché non si ricorda più questo voglio dirti perché non ha memorizzato ecco questo potrebbe essere una soluzione perché non ce la fanno non ce la fanno no beh sicuramente qualcosa di scritto ci vuole ho preparato sul momento per chi ce la fa ho preparato ti fa compilare un test un'anamnesi della durata di circa due ore quindi è una cosa molto impegnativa laddove tu stesso veramente prima dell'appuntamento quindi laddove tu stesso snoccioli veramente tutto quello che è capitato sin da quando stai nato al giorno prima dell'appuntamento questo è molto importante anche perché a me ha fatto sentire molto accudita c'è una cosa che quando vado dal medico non capita mai cioè solitamente mi guardano mi dicono ok ci avevo 5 minuti quindi già mi sono sentita accolta e presa in carica semplicemente perché veramente nessuno mai mi aveva chiesto qual era stata la mia prima malattia infettiva quindi una cosa bella e sicuramente un documento importante anche per lui secondo me è una cosa un'altra cosa molto importante che dobbiamo fare che io faccio è quello di raccogliere un'anamnesi curata alimentare patologica clinica della persona perché è fondamentale ma rispetto veramente a tantissime tantissime cose come sono cambiate le abitudini alimentari cioè mi è dispiaciuto veramente non averlo raccolto perché non ho mai visto una cosa così ben fatta molto interessante io parto dall'allattamento se chiedo se questa persona esatto è stata allattata al seno oppure no e poi da lì fino ripercorro tutta quella che è la storia alimentare e della patologia che l'ha portata da me e secondo me anche questa è una cosa che dobbiamo sicuramente preparare che è Grazie.